salve a tutti oggi volevo recensire un liquido marca vapor art che si chiama malbi malbi questo liquido è aspettate che lo sbapo ancora perché proprio tutto in diretta i nuvoloni allora come avete notato sul mio sistema da barboni ho montato è vero questo drip tip che in italiano si dice bocchino questo coso che ho trovato praticamente in una caverna utilizzata dai tedeschi negli anni 40 quindi questo coso qui sarà appartenuto sicuramente a qualche crucco forse dentro c'è il marchio della luftavaffe non lo so comunque questo malbi è il tipico esempio a mio parere di liquido per ex fumatore fresco fresco che ha cominciato da poco a svapare la sigaretta con la sigaretta elettronica e il gusto è un gusto abbastanza simile a quello che potrebbe essere il gusto di una sigaretta con qualche piccola nota dolce piccola che non disturba però non disturba questa piccola nota dolce quindi abbastanza neutro uno di quei liquidi che si possono svapare tranquillamente all day e che sono adatti a chi comincia a fumare la sigaretta elettronica un difetto che ha questo liquido è veramente il nome malbi ora capisco che non potete fare riferimento alla nota marca di sigarette ossia le malboro malboro o malboro se siete raffinati che erano buone le malboro quel pacchetto così signorile prima che ci mettessero le immagini dei morti ammazzati dal fumo la cos'è quelle cose bello a vedersi buone a fumarsi il nome il nome malbi ora capisco che richiami quel prodotto però malbi con la ispsilons non si può sentire non si può vedere vergognatevi vapor art non si da un nome così a un liquido niente y nei liquidi e dove siamo che cosa siamo dei bimbi minchia che mettiamo la ipsalon vapor art il liquido è buono ma è per il nome vergogna